E abbiamo cominciato a sognare di trasformare l'udere in vecchio arsenale di guerra in un accanto al servizio della pace, perché fosse segno di speranza. E allora l'arsenale è nato così, è nato da tanti giovani che si sono tirati sulle maniche e si sono messi in gioco. Oggi accogliamo 265 bambini con le loro famiglie, bambini ragazzi da 6 mesi a 35 anni, tutti disabili mentali, ieri o medi, che vengono qui per percorsi diversi. Ecco l'arsenale dell'incontro si chiama l'arsenale dell'incontro per questo, ci incontriamo nell'iversità a partire da un sogno comune. E per questo sogno chi uno mette in gioco, quello che è e quello che ha. Ovunque siamo siamo noi, in alto e in basso sempre noi, feriti a volte e morti mai, spiriti del sole. Con gli occhi al cielo siamo noi, ma saldi a terra sempre noi, segnati a volte e spenti mai, spiriti del sole. Le stelle qui ci chiedono se diamo il meglio oppure no, di schiaffi ne abbiamo presi tanti. Glorie a gloria a Dio, gloria a gloria dell'arco dei cieli, nasce in terra di uomini, di buona volontà. Glorie a gloria. Glorie a gloria. Ovunque siamo siamo noi, in alto e in basso sempre noi, feriti a volte e morti mai, spiriti del sole.